e siamo qui per in questa prima iniziativa del 2019 per parlare di un tema di politica estera molto caldo che riguarda una regione strategica per l'Italia come il Medio Oriente e una possibilità speriamo da scongiurare e cercheremo proprio di capire attraverso quali strumenti di un conflitto sapete tutti che la politica estera diciamo anche italiana vede con attenzione questa regione il vice primo ministro Matteo Salvini è stato in Israele in generale c'è un collegamento possiamo dire tra quella che viene definita anche spregiativamente l'ondata sovranista e le ragioni di un paese che si sente da sempre accerchiato e attaccato e di questi problemi parliamo oggi presentando il report di Rebecca Mieli analista indipendente che ha dedicato un lungo e approfondito studio che tra l'altro diciamo mette a frutto un'esperienza di ricerca di anni che si intitola la sfida con l'Iran vista da Israele ed è un report analitico che contiene molti spunti alcuni diretti saranno illustrati direttamente dall'autrice poi dal dibattito che seguirà abbiamo il piacere di ospitare oggi Matteo Bressan della Lumsa e Nato Foundation e ovviamente il senatore Malan che ringraziamo per la sua presenza oltre agli aspetti che emergeranno direttamente mi limito qui a segnalare due cose molto elementari in quella che è la percezione della minaccia iraniana da parte di Israele si ripercuotono anche gli errori dell'Occidente nella politica estera perché una delle conseguenze del disastro siriano degli ultimi anni e cioè sostanzialmente il lasciare alla Russia e all'Iran un ruolo di primo piano nell'incertezza che l'Occidente ha avuto soprattutto nella fase di Barack Obama ha avuto come conseguenza collaterale proprio il rafforzamento dell'Iran in Siria che come vedremo è uno degli elementi che più spaventa la dirigenza israeliana dall'altro lato volendo andare ancora un po' più lontano potremmo dire che lo stesso intervento in Libia fu una volta ricordo un personaggio insospettabile anche lontano se vogliamo politicamente dalle nostre sensibilità come Romano Prodi che disse beh se fossi iraniano dopo quello che è stato fatto a Gheddafi un pensierino sul nucleare me lo farei questo per dire come tante volte degli scenari che sono contigui se affrontati in malo modo con delle scelte inopportune hanno delle conseguenze di lungo periodo che sono poi evidenti soltanto dopo parecchio tempo e si spera in questo caso trattandosi di un conflitto da scongiurare che non si è però passato troppo tempo per evitarlo mi taccio e passo subito la parola all'autrice del report alla dottoressa Mieli che ci illustrerà il punto di vista di Israele sull'Iran bene grazie a tutti per essere qui grazie al centro studio di Machiavelli per l'opportunità inizio subito dicendo che questo dossier nasce dalla volontà di sintetizzare il fenomeno della rivalità tra Iran e Israele ho utilizzato diverse fonti aperte ma anche tante fonti primarie testimonianze, dialoghe, interviste che appunto troverete citate nel report il dossier analizza e spiega il punto di vista di Israele quindi da questo momento in poi parlerò dal punto di vista di Israele l'escalation militare tra Iran e Israele è un'ipotesi che si fa sempre più vicina perché Israele si sente minacciato dall'aggressività dell'Iran questa aggressività si manifesta sotto diversi aspetti il primo è quello della retorica quindi noi troviamo da anni pubblici appelli alla distruzione di Israele dichiarazioni non solo di politici ma anche di accademici membri del clero e militari che parlano proprio della volontà di distruggere Israele io ho portato solo due immagini ovvero l'orologio che a Teheran conta quanti giorni mancano alla distruzione di Israele e il test missilistico del Gadre qui c'è una scritta in ebraico il missile può arrivare in Israele a una gittata sufficiente c'è scritto che significa Israele deve essere distrutta dalla faccia della terra quindi la parte della retorica è molto importante perché va avanti da diversi decenni la seconda minaccia è certamente quella del nucleare l'Iran ha delle ambizioni nucleari è ormai assodato l'accordo che i membri del Consiglio di Sicurezza più la Germania hanno negoziato con l'Iran non è giudicato da Israele sufficiente per ridimensionare le aspirazioni nucleari del paese per una serie di motivi tra cui conta un rallentamento solo temporaneo perché ha una validità temporanea allo stesso tempo elimina le sanzioni e tutti i benefici delle sanzioni sono stati poi successivamente veicolati nel riarmo delle milizie sciite in Siria verso Hezbollah e anche verso i gruppi terroristici che poi colpiscono Israele maggiormente l'accordo non tratta la questione missilistica quindi l'Iran ha continuato a sviluppare missili che possono effettivamente trasportare le state nucleari e non tratta anche un'altra questione fondamentale che è l'ispezione dei siti militari quindi l'AIEA può ispezionare soltanto i siti a cui l'Iran dà il permesso ma non tutti quanti poi effettivamente oltre a questo l'Iran come ho già detto sostiene i gruppi terroristici che colpiscono Israele quindi maggiormente Hezbollah la cui ala militare è considerata gruppo terroristico ma che conta quasi un esercito se è talmente preparata da poter affrontare anche una guerra convenzionale oltre a questo c'è un tentativo dell'Iran a seguito del non voglio dire della fine della guerra in Siria ma del ridimensionamento della minaccia dell'Isis di costruire un corridoio shiita che cos'è il corridoio shiita? è una regione che parte dall'Iran e arriva fino al Mediterraneo finalizzata a creare un flusso di miliziani shiiti che poi provengono anche da Afghanistan e Pakistan ma anche un flusso di finanziamenti diretti a Hezbollah e anche di armi, di missili eccetera eccetera questo minaccia Israele perché? perché arrivati al Mediterraneo quindi arrivati alla parte finale della Siria l'Iran sta costruendo delle roccaforti militari delle basi troppo vicine diciamo a Israele perché Gerusalemme possa accettarlo la conseguenza diretta di questo comportamento è che ci sono poi dei raid di Israele contro queste roccaforti e queste basi quindi c'è una situazione di instabilità e di scontro anche se non parliamo proprio di uno scontro convenzionale l'altra appunto anzi la principale conseguenza di questa situazione di tensione è un po' un re-asset delle alleanze nella regione quindi abbiamo gli Stati Uniti che hanno rafforzato tantissimo i rapporti con Israele anche e soprattutto grazie all'uscita di Donald Trump dall'accordo sul nucleare quindi appoggiano l'idea di Israele che l'accordo sul nucleare non sia sufficiente all'obiettivo che si propone allo stesso tempo si è venuta a creare un'alleanza di mutuo interesse con l'Arabia Saudita e con i paesi del Golfo che ovviamente non è ufficializzata ma noi la riusciamo a percepire da diversi comportamenti che ci sono un po' di dichiarazioni in Arabia Saudita e poi il rafforzamento delle alleanze con i paesi arabi che temono l'Iran tanto quanto Israele e l'Arabia Saudita ovvero l'Egitto e la Giordania che contano oggi veramente cooperazioni su tantissimi piani con Israele c'è appunto anche secondo me un importante ruolo della Russia perché la Russia essendo il principale alleato dell'Iran e della Siria è anche l'unico che può controbilanciare le loro forze rispetto appunto a Israele ovvero la Russia ha degli interessi in Israele perché su 7 milioni di abitanti un milione è russo o russofono questo significa che la Russia ha tutto l'interesse a tutelare sia proprio la popolazione sia gli investimenti, le aziende tutto quello che c'è di russo in Israele di conseguenza potrebbe essere questo un modo per voler bilanciare o comunque ridurre la presenza iraniana in Siria e volerne ridurre in un certo senso l'aggressività ora come io ho ipotizzato nel report si può evitare questa escalation militare si possono evitare appunto altre guerre e altri conflitti la cosa più importante è l'accordo nucleare Israele crede che una delle grandi soluzioni al problema del Medio Oriente e dell'Iran sia negoziare un nuovo accordo un accordo che comprenda tutta l'aggressività dell'Iran non solo il livello di arricchimento dell'uranio non solo il numero di centrifughe presenti nel paese ma anche ad esempio i siti nucleari che non sono mai stati smantellati dal 2010 oppure la questione delle ispezioni nei siti militari quindi in generale l'aggressività e il sostegno al terrorismo dovrebbero entrare a far parte di un accordo che comprenda un po' tutte le questioni più scottanti della rivalità tra Iran e Israele oltre a questo Israele crede che sia possibile per la Russia diciamo farsi carico di negoziare un accordo tra Iran e Siria che crei una zona demilitarizzata nei pressi del Golan quindi per far sentire Israele più sicuro e che allo stesso tempo possa garantire una riduzione della presenza iraniana in Siria soprattutto da quella parte lì non in tutta la Siria ovviamente questo nessuno lo chiederebbe per quanto riguarda invece l'Italia e l'Unione Europea quindi appunto quello che ci riguarda più direttamente l'Italia è uno dei pochissimi paesi che è esente dalle sanzioni ripristinate da Trump contro l'Iran questo significa che è possibile che in quanto partner iraniano l'Italia possa fare delle pressioni diplomatiche ovviamente insieme all'Unione Europea di cui noi appunto facciamo parte una pressione che miri a ridurre questa ritorica così violenta e il sostegno al terrorismo anche perché questa situazione non danneggia solo Israele di per sé danneggia anche l'Europa come abbiamo visto qualche giorno fa quando l'Europa ha inserito l'intelligenza iraniana nella lista nera perché l'intelligenza iraniana in Danimarca, Paesi Bassi e in Francia ha assassinato o tentato di assassinare dei dissidenti politici iraniani l'Europa che comunque si fa sempre promotore del sostegno dei diritti umani potrebbe a questo punto anche sostenere la popolazione dell'Iran che dall'accordo non ha ricevuto praticamente benefici perché noi abbiamo visto che la spesa militare dopo l'accordo in Iran è aumentata del 17% tutto quello che ne è derivato è confluito nella guerra in Siria la popolazione non ne ha beneficiato e infatti ha protestato nel corso degli ultimi anni quindi c'è anche un ruolo secondo me per l'Italia e per l'Europa l'ultima cosa che dico molto rapidamente uscendo dai panni di Israele e entrando nei panni dell'Occidente considerare il fatto che l'Iran non ha fatto mai un test missilistico una prova che l'Iran non ha ambizioni nucleari è un errore perché l'Iran ha queste ambizioni nucleari le ha avute ma ha tanto altro ha gli scienziati che sono arrivati a un livello di arricchimento del 19,8% che è la soglia minima per costruire una bomba ha i centri di ricerca che hanno lavorato già sull'uranio ha il know-how possiede tutti gli ingredienti per costruire il nucleare come se noi avessimo tutti gli ingredienti per fare la nostra torta c'è lì a lì non fa altro che aspettare che un qualcosa gli dia il casus per farlo di conseguenza un accordo non dovrebbe focalizzarsi sulla quantità di uranio arricchito o la percentuale di arricchimento dell'uranio ma su una serie di altri fattori e infine il deterrente che l'Iran possiede è proprio questa ambiguità cioè il fatto di dire io ho tutti gli strumenti ma non lo faccio perché la comunità internazionale si deve comportare bene nei miei confronti è un deterrente di per sé è lo stesso deterrente che ha chi ha un arsenale e dice comportatevi bene altrimenti lo utilizzo questo è quello su cui dal mio punto di vista si dovrebbe focalizzare l'Occidente grazie grazie molto Rebecca come vedete gli spunti sono tanti mi permetto solo di notare un lapsus che ha utilizzato uscendo dai panni di Israele mettendomi nei panni dell'Occidente ma in realtà Israele è Occidente è proprio l'avamposto dell'Occidente in Medio Oriente naturalmente non era questo intendeva dire dal punto di vista geopolitico mettendosi nei panni dell'Europa però è una annotazione comunque significativa molti spunti appunto ritengo siano interessanti quello sulla Russia per esempio è interessante notare proprio quasi come exemplum di quanto sia complesso di quanto rappresenti davvero un ginepraio tutto il Medio Oriente per la mutevolezza delle alleanze il fatto che un paese che di fatto è entrato in un conflitto diciamo così dalla parte del nemico di Israele sia visto comunque come un interlocutore possibile dall'altra parte nell'intervento russo ormai non è più un mistero c'è stato un forte coordinamento a livello per esempio dei capi di Stato Maggiore Isenkot e Ghirassimov che hanno coordinato le azioni con qualche lamentela da parte israeliana sostanzialmente proprio perché la promessa russa di impedire che armi diciamo russe finissero a Hezbollah non è stata proprio del tutto rispettata gli spunti sono però molteplici e avendo avuto questa panoramica dal punto di vista diciamo di Israele ritengo importante adesso sentire l'opinione di Matteo Bressan anche magari per focalizzare la sua idea su come nello scenario vicino orientale più in generale l'Italia possa e debba avere un ruolo in questo conflitto congelato chiamiamolo come vogliamo prego intanto grazie buonasera a tutti e sono particolarmente felice di essere qui ospite del centro studi Machiavelli e in particolarmente modo assistere a questa analisi fatta da Rebecca che ho avuto il piacere di avere come frequentatrice ad un corso della CIOI un paio di anni fa proprio sul terrorismo quindi mi sento veramente contento di questo ma io farò alcune riflessioni rispetto a quello che è il contesto nel quale si è districata Rebecca perché a mio avviso non si può non collegare la crescente e violenta retorica non solo retorica delle parole ma anche delle operazioni militari tra Israele e Iran nel contesto post 2011 del conflitto siriano questo è un primo elemento che ci serve per capire che cosa è cambiato rispetto a un prima dove tutto sommato sì tensioni c'erano ma non erano mai arrivate a quello a cui abbiamo assistito in Siria io qualche tempo fa sulla Siria avevo un'idea ed era questa in Siria si combattono varie guerre lo dicevo nel 2013 e tra queste ce n'è una tra Israele e Iran mi dicevano dove come quando no c'era c'erano dei raid mai confermati solo negli ultimi tempi solo dopo il 2016 sono stati confermati da Israele contro obiettivi specifici contro trasferimenti di armi uomini e mezzi dalla Siria al Libano o anche in altre aree della Siria stessa e c'è stato un escalation dal 2013 in poi di questi raid e questo elemento è molto importante perché questa scelta politica di compiere una serie di precisi raid contro un possibile incremento innanzitutto delle capacità militari di Yezbollah e inoltre come ha detto prima Rebecca interdire all'Iran di installare sul suolo siriano installazioni centri di reclutamento e altre attività di questo tipo è un fattore che va compreso perché altrimenti non sappiamo dove siamo Rebecca ha parlato di corrido di uscita questo è qualcosa che c'era non è che adesso c'è di più c'era anche prima si diceva anche prima si diceva dopo il 2006 si è continuato a dire negli anni in cui c'era un forte dibattito anche il Libano è cambiata la presenza iraniana in Siria è cambiata la presenza di Yezbollah in Siria non che la Siria di per sé fosse una minaccia convenzionale due anni fa su Foreign Affairs ci fu una brillante analisi che dimostrava come a livello convenzionale l'esercito siriano di Assad prima dell'inizio delle proteste del 2011 lo rappresentasse una minaccia per la sicurezza di Israele c'erano due vecchie un vecchio un vecchio presidio sul Golan che era lì per tenere in piedi quella retorica di Assad padre e di Assad figlio ma che sotto il profilo reale non costituiva una minaccia concreta quello che è cambiato è stato ritrovarsi i miliziani iraniani e gli Yezbollah più vicini al confine e questo è stato un cambio qualitativamente evidente degli equilibri sul campo di battaglia a questa dimensione del conflitto siriano che è una dimensione in cui la Siria come Stato si indebolisce e si è indebolita inevitabilmente in otto anni di conflitto ed è stata sostituita da milizie e forze provenienti da altri paesi e come tu ben ricorderai quando nel 2016 ragionavamo sul fenomeno dei foreign fighters concetto che poi nella storia c'è sempre stato a cominciare senza andare troppo lontano alla guerra civile spagnola dove combattenti che non erano spagnoli andavano sul campo di battaglia o su quell'altro ragionavamo sul fatto che vi erano in Siria 35.000 forse 40.000 foreign fighters andati a combattere con al-Nusra con l'Isis e con altre sigle io all'epoca dissi il powerpoint lo può testimoniare che nel computo dei foreign fighters ce n'erano altri e ne stavamo parlando prima con l'amico generale Morabito prima di iniziare questa chiacchierata ce n'erano altri perché c'erano quelli che erano entrati a combattere a sostegno di Assad libanesi e sbolla iraniani provenienti dall'Afghanistan provenienti dall'Ira che tecnicamente anche essi erano foreign fighters e poi c'erano anche quelli che andavano con i kurdi avete visto la drammatica vicenda del nostro cornazionale quindi anche quelli sono tecnicamente foreign fighters questo per dare un perimetro su quello che è accaduto terzo elemento conflitto siriano rimescola le regole del gioco perché il mondo del 2003 dell'Iraq del 2003 è saltato come è saltato il mondo del 2011 in Libia non entro nel merito a torto a ragione è saltato punto Russia e Cina in consiglia di sicurezza dell'ONU hanno sistematicamente posto il veto ad ogni azione contro Assad allora questo si chiama tradotto per gli appassionati per i ricoltori di relazioni internazionali tornare ad una logica di grande equilibrio di potenza che sulla Siria ha trovato l'epicentro di un conflitto mondiale perché alla fine c'erano andati un po' tutti a combattere in Siria perché cambiano le regole del gioco perché gli strumenti tradizionali ammesso che abbiano mai funzionato io credo che l'ONU abbia funzionato soltanto nella guerra del golfo del 91 per manifesta in potenza di Russia e Cina in quel contesto storico non hanno più funzionato tant'è vero che se voi vi ricordate abbiamo assistito a una serie di vertici i famosi vertici di Ginevra 1, 2, 3 tra Assad e forze di opposizione che entravano non si parlavano c'era un mediatore che li faceva dialogare tra virgolette da Damasco diceva non ci sediamo con i terroristi gli oppositori dicevano non ci sediamo con il regime arrivederci grazie è cambiato tutto con che cosa? 2015 settembre intervento russo in Siria intervento russo in Siria che ha portato delle logiche diverse io non sto qui a dire logiche che noi condividiamo o non condividiamo logiche molto semplici chi vince sul campo di battaglia porta gli altri al tavolo così è stato nel confronto Turchia-Russia dopo l'aereo abbattuto nel 2016 con tanto di apertura di un ufficio di rappresentanza dei kurdi a Mosca utilizzati in funzione in quel frangente antiturca con una serie di accuse a Erdogan di trafficare petrolio con i miliziani dell'ISIS se vi ricordate i video fatti vedere e si è arrivati al format di Astana che non è l'ONU è un format dove si sono seduti la Russia la Turchia e l'Iran mancava un pezzo mancavano gli Stati Uniti mancavano altri attori che a vario titolo paesi monarchie del golfo stavano su un altro fronte di quello che era il campo di battaglia siriano in questa situazione che voi capite bene già di per sé è abbastanza complessa si innesta l'accordo del 2015 che viene eletto in quello che era l'equilibrio competitivo ipotizzato da Obama viene eletto da Israele e Arabia Saudita come il liberi tutti e ci hanno consegnato all'Iran questa è stata la percezione forte che questi due paesi hanno avuto da quell'accordo perché? perché c'è stata una sovraesposizione di milizie che hanno sì cambiato l'esorto del conflitto siriano io vi posso tranquillamente dare la data precisa nel maggio del 2013 le milizie di Yesbollah vincono al confine con il Libano una delle più importanti battaglie con tutte le sigle perché poi io semplifico ma l'Institute for Study of War di Washington aveva censito il 2000 di quella che era la galassia delle tante realtà di Yesbollah vincono una battaglia che taglia praticamente la strada le forze ribelliche avrebbero isolato Damasco dalla costa e quindi un attore non statuale di Yesbollah attore che per Stati Uniti Israele Canada è un'organizzazione terroristica vince la sua battaglia ma cosa è ancora più sorprendente è bene ricordarlo perché se noi non cambiamo se noi non capiamo le regole del gioco del campo di battaglia noi non possiamo capire quello che succede sono soggetti che in Siria operano in maniera congiunta insieme ai russi palesemente senza misteri e insieme vincono la battaglia di Aleppo quindi la Russia si muove su un campo di battaglia dove gli Stati Uniti avrebbero qualche difficoltà a combattere milizie di varia natura non dico che tutte le milizie erano tutti le milizie anti Assad erano tutti tagliacola però a un certo punto nel conflitto nel 2015-16 ad Aleppo l'unico cartello con chi sapeva fare la guerra erano quelli di Al Qaeda ma la Russia si muove con un approccio diverso un approccio diverso che come ha detto prima Dario è un approccio che è iniziato con due telefonate la Russia è intervenuta in Siria con una telefonata a Washington e una telefonata a Netanyahu che voleva dire voleva dire ci coordiniamo altrimenti non sappiamo quello che può succedere dove si capisce la divergenza strategica dell'intervento russo in Siria rispetto a quello iraniano se voi andate a rivedere dal settembre del 2015 quando la Russia dispiegò in Siria gli S-300 e dissero cosa ci fa la Russia con gli S-300 in Siria non ci risulta che l'ISIS abbia ieri ovviamente gli S-300 per chi è esperto della materia ovviamente sono un sistema di difesa antiaereo l'ISIS si centrava ben poco era uno strumento di deterrenza contro chi lo abbiamo visto dopo ma non sono mai serviti per coprire Iran ed Esbolla tant'è vero che ogni volta che Israele ha ritenuto opportuno mettere in campo e fissare dei paletti rispetto alla linea rossa tutti hanno parlato in Siria di linee rosse il primo fu Obama talvolta anche Erdogan ancora oggi insomma stiamo vedendo ma Israele nonostante la c'è stata una sorta di c'è stata il fuoco che fu raggiunto tra Trump e Putin nel 2016 una delle prime strette di mano Israele dopo due mesi fece un ride cioè fece capire che come la propria sicurezza nazionale fosse ben diversa dall'agenda sia americana sia russa quindi la Russia è entrata in Siria obiettivo preciso combattere da una parte l'ISIS dall'altra puntellare Assad gli Hezbollah e gli Iraniani erano fuori dal ragionamento perché dal 2015 ad oggi ci sono stati una serie di ride molto forti che hanno confermato quella che è la migliore strategia militare io impedisco all'avversario nella fattispecie Hezbollah e gli Iraniani di pensare minimamente a qualsiasi azione dalla Siria perché li mettono nelle condizioni alla prima ritorzione di essere esposti ovviamente a qualcosa di ben più notevole rispetto a quello che abbiamo visto altra considerazione sovraesposizione l'abbiamo detto la sovraesposizione di cui parlava Rebecca dell'Iran in Siria è quell'elemento che ha prodotto le proteste sociali nel dicembre del 2017 nel dicembre del 2017 in Iran proteste che mi spiace dirlo io ho anche avuto modo di parlare con un fiero oppositore iraniano non c'entravano nulla con quell'immagine di quella ragazza che si è tolta il velo i manifestanti dicevano noi con la Siria con Hezbollah con Gaza non vogliamo avere nulla a che fare c'è un problema che qui non si lavora c'è l'economia che ha il collasso allora quell'esposizione militare va letta perché se viene letta in un modo diverso noi continuiamo e lo dico con molta franchezza dal 53 ad oggi a non capire bene alcune dinamiche iraniane se noi pensiamo che quella protesta sociale automaticamente voglia dire riabbracciamo gli eredi della monarchia attenzione perché non si va lontano anzi automaticamente qualcuno dice beh che volete volete riportarci il figlio di Mohammed Reza Shah non è questo il tema è capire allora sovraesposizione forse troppa esposizione anche delle stesse milizie di Hezbollah Hezbollah sono stati determinanti nel conflitto siriano qual è il punto secondo me oggi di di caduta di questa situazione chi fa l'accordo per la stabilizzazione della Siria lo fa chi parla con tutti e in questo momento al momento anche alla luce di quelle che sono state le dichiarazioni di Trump noi abbiamo assistito all'annuncio del ritiro preoccupazioni israeliane rispetto al ritiro e Trump il 27 dicembre dice candidamente diamo Israele 4 miliardi e mezzo di dollari l'anno si sanno difendere bene insomma è un po' forte questo è Arez uno dei più importanti giornali israeliani questi 4 miliardi e mezzo di dollari in aiuti militari sono l'accordo siglato da Obama nel 2016 decennale accordo di assistenza militare 2019-2028 di 38 miliardi di dollari poi esce fuori un'altra dichiarazione l'Iran può fare quello che vuole in Siria chi lo dice? Trump Suarez pochi minuti fa prima di entrare qua Mike Pompeo ha detto dobbiamo stare in Siria affinché non se ne vanno gli iraniani ora il problema dell'assetto della Siria è a mio modestissimo parere il tema che può disinnescare un conflitto perché ce n'è un altro quello tra Turchia e Kurdi che insomma non entro in questo ma ce n'è un altro come si disinnesca? chi fa l'accordo probabilmente russi probabilmente Russia e Iran garantiscono i Kurdi del nord-est della Siria però certamente questo vuoto che non è stato lasciato quei duemila militari qualcuno dice servivano duemila militari poco potevano dire onestamente rispetto all'equilibrio in campo ma erano un modo per essere nel dibattito nel negoziato sulla Siria c'è chi dice abbiamo distrutto al 99% l'ISIS anche qui attenzione gli annunci sulla fine dell'ISIS io li sento fare nell'ordine dal novembre del 2017 fatti anche prima ma quello diciamo più eclatante dopo le cadute di Mosul e Raqqa nell'ordine chi annunciò questa vittoria? Putin Kassan Sulemani il capo dei guardiani della rivoluzione iraniana e Nasrallah il capo di Hezbollah voi capite bene su questo tema ognuno ha la sua agenda io non credo che l'ISIS sia sconfitto del tutto credo anzi che una una stabilizzazione post conflict dell'area sia quanto di più difficile possa esserci quindi temo che quello che abbiamo visto sorgere nel 2003 che in realtà è quello che improvvidamente riprese forza dopo il ritiro anticipato di Obama dall'Iraq possa tornare rispetto alla presenza credo che questa presenza sia utile in un negoziato certamente arriverà un punto che trovato un assetto nel nord est della Siria qualcuno dovrà fare il garante per il Golan e qui probabilmente i 40 km di zona demilitarizzata rispetto a quelli che sono le capacità dei missili oggi in possesso anche di Iran non cambiano la sostanza possono essere 40 80 cambia poco quando tu sei un paese piccolo geograficamente la geografia è un elemento fondamentale in geopolitica sei un paese piccolo e sei comunque intorno a paesi che hanno insomma Libano formalmente in guerra con Israele Siria in guerra più presenza iraniana non è una questione 40 80 si tratta di capire chi fa da mediatore in tutto ciò e ad oggi ma ripeto le giravolte di questi ultimi 12 giorni ci insegnano che è sempre opportuno avere molta prudenza ci dicono che oggi la Russia ha un vantaggio molto semplice perché ha un vantaggio presenza militare sul campo ed è colei che sta spingendo la lega araba alla normalizzazione con Assad l'apertura dell'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti è un segnale di distensione tutti dicono il prossimo la prossima ambasciata sarà chi Arabia Saudita allora questa riapertura che cosa si dice normalizzazione ma ci dice un'altra cosa contenimento dell'influenza della Turchia da una parte e dell'Iran dall'altra nella ricostruzione tema attualissimo della Siria l'ONU ha stimato che serviranno 400 miliardi per ricostruire la Siria chi ce li ha la Russia non credo l'Iran non credo e quindi un ritorno a una normalizzazione attenzione di quella lega araba che ha messo in sbolla tra le organizzazioni terroristiche quindi voi vedete quanto sia complesso il campo e il settore nel quale ci muoviamo forse questa normalizzazione assecondata da Mosca può ammesso che Mosca ne sia capace perché qualcun altro in Iraq si è fatto male e ancora oggi l'Iraq resta ahimè una voragine in quello che sono le dinamiche regionali vedremo se questa azione di Mosca possa essere anche valida in una funzione di garante della sicurezza di Israele tenendo aperti il dialogo con altri attori con i quali con Israele non parlano sono formalmente in guerra o peggio ancora minacciano ritorsioni o distruzioni totale grazie 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 Matteo non c'è dubbio che l'intervento diplomatico russo abbia alzato il livello rispetto a a quelli che sono stati diversi round dei colloqui di Astana è vero anche che c'è una dimensione interna che condiziona poi gli esiti della politica estera dei vari paesi prima dicevi prima il cambiamento rispetto all'intervento russo è chi vince sul campo mette poi porta al tavolo gli altri nel caso della Turchia forse ha influito anche la tentato golpe diciamo così l'indebolimento e l'isolamento in cui si è trovata comunque la Turchia all'improvviso in ogni caso la partita resta ancora aperta io rilancerei l'assist che non hai colto sul quale dovrebbe essere la prospettiva dell'Italia su cui si può tornare sicuramente al senatore Malan a cui lascio la parola prego grazie grazie innanzitutto il centro Machiavelli per avermi invitato ringrazio il sottosegretario Picchi che purtroppo non ha potuto esserci per per avere dato un impulso importantissimo per questa per questa iniziativa che appunto è fondata su studi approfonditi precedenti mi complimento con i relatori che hanno parlato prima di me dandoci un quadro molto preciso e interessante io vorrei partire da una parola che hanno usato entrambi i relatori cioè la questione retorica la retorica dell'Iran retorica credo che l'avete usato soprattutto un po' nell'accezione che si usa in inglese cioè retorica in italiano di solito è o quella tecnicamente si riferisce all'arte oratoria oppure retorica cioè dicono tanto per dire poi non fanno invece retorica in senso inglese che anche in senso più etimologicamente proprio intende la strategia di comunicazione e la retorica dell'Iran è quella dell'orologio ma è anche quella molto concreta dei missili è anche quella molto concreta del build up nucleare e non è detto che resti retorica in senso italiano anzi ci sono varie dimostrazioni dove passano davvero ai fatti magari con grande silenzio cioè l'aiuto che è c'è anche una bella carta geografica nella relazione che abbiamo ci sono delle azioni molto concrete a volte accompagnate dal silenzio silenzio che è normale ci sia da parte dell'Iran è un po' meno normale che ci sia da parte di molta informazione occidentale e quanto alla retorica credo che bisogna sempre essere molto attenti a chi dice di voler fare certe cose a volte può essere solo una minaccia ma a volte non lo è se non si fosse preso come retorica un'intervista di Adolf Hitler del 1921 una non è che ne ha detto solo quella un'intervista di Adolf Hitler nel 1921 che non ha neanche ancora fatto quel tentativo quasi grottesco di Puc alla birreria di Monaco eppure aveva un programma molto chiaro impiccare tutti gli ebrei lui era un po' artigianale all'epoca parlava di impiccare tutti gli ebrei della Baviera tutti il giornalista posa il problema pratico dice ma se anche fosse come fai uno per volta questo purtroppo all'epoca probabilmente ha fatto sorridere come persino come dire ma non era retorica erano fermi propositi allora quando questi propositi certo sono usati anche ai fini della politica interna per dare una motivazione a come dire a sostenere questo regime sono usati nella politica internazionale per cercare in qualche modo di riunire di dare una di avere maggiore coesione di avere sostegno nel mondo musulmano ma ma come dire sono molto ben sostenuti non c'è soltanto un aspetto un aspetto di comunicazione ma ci sono delle cose molto concrete alle quali evidentemente tengono molto perché vediamo bene il l'impegno sia diplomatico sia di altro tipo che c'è per difendere il programma nucleare poi ci sono anche altri strumenti che sono quelli propri di un paese di una lunghissima tradizione a differenza dei vari paesi che ci sono intorno di cui spesso parliamo incluso la Siria l'Ira che altri l'Iran è veramente una nazione non è il risultato di due diplomatici che hanno tracciato dei confini ma è veramente una nazione e di antichissime tradizioni allora siccome non sappiamo esattamente e non possiamo dire esattamente che cosa fanno oggi io avendo fatto una tesi su quella tesi di laurea ormai anche questa è diventata storica per l'età non per l'importanza ho motivo di credere non solo io da solo che 24 secoli fa stipendiassero De Mostene perché parlasse contro Filippo di Macedonia che era l'unico che potesse mettere disturbare la loro desiderio di egemonia di espansione nel caso anche verso occidente e qualcosa mi dice che non si siano limitati a De Mostene ecco insomma la memoria storica non è che non è solo memoria può anche essere dire come facevamo all'epoca possiamo fare oggi questo spiega una grande come dire non benevolenza ma una grande sordità oppure disattenzione dei media occidentali rispetto ai fatti che qualunque altro paese quando il dittatore nordcoreano minaccia la Corea del Sud gli Stati Uniti eccetera eccetera lo si sa di questo orologio che va avanti secondo per secondo ogni giorno se ne parla poco chissà come mai forse De Mostene ha degli eredi ecco insomma ci sono delle cose che non accadevano solo 24 secoli fa per esempio l'opposizione iraniana l'amico ambasciatore Giulio Terzi abbiamo degli amici in comune negli oppositori iraniani che tentano di costruire un'alternativa le loro riunioni benché molto grandi benché con la partecipazione di personaggi di alto e altissimo prestigio vengono ignorate con risultati anche qui concreti quando ci sono state manifestazioni straordinarie prima il relatore ha parlato del del 2017 ma mi pare nel 2009 quando ce ne sono state di grandissime l'Occidente è stato inerte sia nei fatti ma persino nelle parole e questa gente che chiedeva semplicemente cose che in generale anche vanno molto forte nell'agenda occidentale più diritti più libertà pari dignità per le donne o quasi pari dignità non esageriamo per non parlare di altre cose fu lasciato cadere e furono vittime di una repressione assai feroce ricordiamo che l'Iran è forse adesso il primo paese al mondo per esecuzioni capitali forse ha superato la Cina siccome l'Iran e la Cina sono molto trasparenti in questo campo non sappiamo chi abbia il primato comunque col fatto che la Cina ha una quindicina di volte gli abitanti dell'Iran o anche di più come dire il confronto in ogni caso è in Pari e le ultime la tendenza comunque oltre alle ultime mosse quantomeno l'annuncio di mosse concrete da parte degli Stati Uniti rendono più preoccupante la situazione in particolare in Siria e concludo questo dà una maggiore desiderabilità dell'esistenza e l'efficacia di una politica europea di una politica internazionale europea perché di fronte a una situazione che è estremamente instabile comunque è un pericolo di grande instabilità nel futuro addirittura esplicitamente Rebecca parla di pericolo di confronto armato in una situazione in cui gli Stati Uniti con una tendenza un po' generale dicono dicono e sembra che vogliano ridurre il loro ruolo di stabilizzatori che a volte la cui interpretazione sulla cui messa in atto ci possono essere evidentemente tante opinioni comunque tendono a rinunciare tendono a ridurre il loro ruolo sarebbe molto desiderabile avere una politica europea efficace in questo in questo settore e il fatto che evidentemente è già è già difficile stabilire se c'è una politica europea come dire non esenta dal dal proposito di farlo perché noi siamo molto più vicini dagli Stati Uniti rispetto a questa zona e in ogni caso forse dovremmo capire un po' meglio che la situazione di quell'area riguarda direttamente anche noi del resto autorevoli esponenti del regime iraniano tra i quali il vice capo dei di Pasteran ha detto guardate che la gittata dei nostri missili copre l'Italia e fatti calcoli forse solo qualche cosa nella parte alta della mia valle non dove abito io della mia valle alpina è fuori ma proprio per qualche chilometro per cui basta spostare le rampe che probabilmente arriva anche lì per cui certo sono minacce che loro non vogliono mettere in atto perché sperano di non averne bisogno nel senso sperano di avere una certa condiscendenza e dico un'ultima cosa gli investimenti italiani in Iran naturalmente vengono sempre presentati come occasione di sviluppo e così via ma faccio una citazione evangelica che dice dove è il tuo tesoro lì sarà il tuo cuore e molto più terra terra è evidente che più ci sono investimenti in quel paese e più è difficile una politica di serio contrasto ove si ritenesse di farla attualmente non mi sembra che si ritene tanto di farla ma ove si ritenesse di farla più ci sono stati investimenti più ci sono investimenti e più è difficile che ci sia un'azione anche solo retorica di qualsiasi tipo grazie mille senatore aggiungo solo una piccolissima chiosa vero quello che dice lei ma l'interesse italiano dal punto di vista anche economico è rivolto anche allo stesso Stato di Israele penso anche al progetto del gasdotto EastMed che è ancora diciamo in una fase molto appunto embrionale e che però affiancandosi alla TAP rientra un po' in un quadro di diversificazione energetica che ci auspichiamo il governo prosegua e che quindi diciamo non contraddice ma affianca quanto stava dicendo a proposito del legame tra interesse economico e azione di politica estera abbiamo ancora qualche minuto quindi lascerei spazio a qualche domanda breve dal pubblico presumo che il già ministro Giulio Terzi voglia darci il suo punto di vista sulla vicenda io ringrazio moltissimo sono venuto per ascoltare un dibattito interessantissimo un paio di osservazioni a cominciare da quello che ha detto il senatore Malan è molto importante in questo discorso cosa possiamo fare noi noi in Europa e individualmente come paese per muovere la Russia o per cercare di attenuare questo rischio percepito da Israele io credo che la cosa principale che possiamo fare è considerare anche il versante israeliano l'Unione Europea da molti anni ha nel cassetto un accordo di partnership strategica con Israele che viene lasciata lì perché si discute sempre di un processo di approfondimento dell'accordo di associazione legato e condizionato all'andamento del negoziato con i palestinesi è l'unico caso al mondo io credo da quel poco che capisco in cui un negoziato di peace building o di post conflict peace building condiziona lo sviluppo di relazioni fra due entità così importanti che sono la stessa Europa lo stesso occidente è stato detto Israele è parte integrante di una comunità unica perché dando non soltanto la rhetoric forse qualche misura concreta ma anche la retorica il modo in cui l'Unione Europea e l'Italia si esprimono verso Israele su tutti i punti che la preoccupano in particolare il proclama missilistico iraniano terrorismo in Europa da parte degli iraniani sui quali cerchiamo di far finta di niente se non fosse per gli ultimi giorni Danimarca e Olanda che sono venuti fuori in modo molto chiaro ecco su questi aspetti un partenariato strategico e un comportamento non soltanto retorico nella pienezza del termine ma anche di misure concrete credo che sia importantissimo per creare condizioni di di maggior tranquillità se mai possibile anche sul teatro siriano grande incognita ne accennavamo quando siamo salutati quali sono le grandi strategie russe in Siria e in Mediterraneo orientale perché la Siria è parte di una direttrice di ripresa di potere geopolitico russo non risaliamo all'antichità ma che ha due direttrici non potendo avere una direttrice a est verso la Cina sappiamo che non avrebbe senso neanche per motivi demografici ma ne ha due soprattutto Mar Nero Mardazov e Ucraina e l'altra Mediterraneo orientale non illudiamoci che siano delle posizioni tattiche c'è una strategia navale russa del 2015 il professor Bressan me lo insegna che è chiarissima una dottrina Gerasimov del 2013 altrettanto chiara crediamo alle cose che si scrivono per favore e cerchiamo di capire quali sono le sfide alla sicurezza europea ultimo punto il contenimento dell'Iran va attraverso un meccanismo sanzionatorio che ha fatto presa e ha portato l'Iran al negoziato del JCPOA non c'è stato nient'altro che le sanzioni petrolifer che hanno portato l'Iran lì l'Italia ha detto giustamente ma non so se sono completamente d'accordo spero di far capire in che senso giustamente l'Italia ha avuto un'esenzione dall'amministrazione Trump sull'applicazione delle sanzioni petrolifere ma non pensiamo che questo riguardi tutto il meccanismo sanzionatorio per esempio ci sono delle aziende italiane che continuano a fornire componenti per l'industria militare e io scuso se non faccio i nomi ma ne conosco le sigle di queste aziende che hanno anche fra l'altro filiali negli Stati Uniti e sarebbe buona cosa per la credibilità italiana che si cessasse di chiudere un occhio anche su questo grazie se ci sono altri interventi telegrafici veramente perché siamo in chiusura prego qualcuno vuole fare un commento sulla Turchia tra i relatori quante ore ho no io credo che la notizia degli ultimi giorni legata al usiamo questa espressione presunto ritiro degli Stati Uniti dal nord est della Siria ci pone uno scenario molto semplice la Turchia rispetto agli otto anni di crisi in Siria ha fatto un'inversione di priorità di 180 gradi dalla rimozione di Assad si è passati alla necessità di contenere le milizie kurde primo serio problema per Ancara e anche poi la lotta all'Isis che da un certo momento in poi la Turchia ha manifestato un cambio di rotta rispetto ai primi due anni in cui sono state molte accuse rivolte ad Ancara circa il controllo dei propri confini non sto dicendo una cosa nuova credo che la Turchia è di fronte e sta ponendo di fronte Washington e la Russia e anche Damasco e Teheran a un'alternativa o si trova un accordo per ridimensionare le pretese gli obiettivi delle milizie kurde perché spesso si va a generalizzare i kurdi del nord est non c'è una sigla unica tante sigle spesso anche tra di loro non con le stesse vedute e quindi la possibile e il possibile ingresso militare perché di questo si parla in queste ore della Turchia in Siria è qualcosa che gli altri verosimilmente vorranno scongiurare come circolata qualche giorno da settembre lo scenario di ripresa di dialogo tra i kurdi e Damasco è tra virgolette lo scenario più indolore ovvero un ritorno completo sotto Damasco non sarà la regione autonoma del nord della kurda del nord della Siria ma tra questo e fronteggiare Ancara forse i kurdi che hanno ahimè giocato forse su troppi tavoli forse sono stati sedotti abbandonati da parecchi non solo è facile le critiche a Washington sono state fatte tante ma ho fatto prima l'esempio dell'ufficio di rappresentanza fatto aprire ai kurdi a Mosca in quel momento serviva aprire un ufficio per mettere pressione ad Ancara e alla fine però probabilmente una fascia demilitarizzata garantita da chi lo vedremo penso a breve è l'unico modo per scongiurare un'invasione perché di questo stiamo parlando a meno che gli altri non protestino o facciano finta di non vedere grazie Matteo voleva chiudere l'autrice Rebecca con sì no volevo dire specificare un'ultima cosa l'Iran non ha alcun non ha alcun motivo per avercela con Israele tutto questo è funzionale dal mio punto di vista al mantenimento del regime attuale io ho una frase di Rabin dell'87 l'Iran è il migliore amico di Israele non abbiamo intenzione di cambiare la nostra posizione nei confronti di Teheran perché il regime di Khomeini non durerà per sempre ora è dell'87 non è durato per sempre è durato tanto è durato abbastanza ma non esiste alcuna rivalità tra la popolazione iraniana e la popolazione israeliana la gente non non ha non ce l'ha con Israele è semplicemente un disegno creato per mantenere al potere questo regime qui perché quando c'è un nemico a cui dare la colpa di qualcosa si riesce sempre a mantenere il potere grazie grazie siamo in chiusura vi ringrazio di aver partecipato e ci rivedremo spero a breve con le nostre iniziative grazie buona serata grazie 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 Grazie. Grazie. Grazie.